Se quel che conta il campo è pur vero che un occhio a quel che succede nella stanza dei bottoni, gli avellinesi ormai sono abituati a lanciarlo. La necessità resta quella di dare serenità all'ambiente e lo si potrà fare soltanto virando verso una gestione chiara ed economicamente solida. Mario Dell'Anno ha già detto la sua e il suo post suonava come un ultimatum, se entro dicembre non si cambia vanno via logo e denominazione. Questo apre il campo anche ad un altro aspetto che si lega a doppio filo con la volontà dell'attuale proprietà di farsi da parte. I contatti con i potenziali acquidenti sembrano essere partiti già da un po' con varie vicissitudini. Facciamo il punto. I primi a farsi avanti, anche con grande trasparenza, sono stati i delegati dell'Up Green, società di origine serinese che si occupa di logistica e gestione dei rifiuti. L'amministratore Roberto De Gennaro e il presidente Antonio De Sarlo si sono già fatti vedere al partenio delegando l'avvocato Edonolfo Nittolo alle trattative private. La scorsa settimana i legali hanno chiesto ed ottenuto un incontro napoletano con l'attuale amministratore della SIDIGAS, Dario Scalella, in cui si sono fatti ulteriori passi avanti. Le rate del pagamento, che continua ad ammontare a 1 milione e 100 mila euro, non si dovrebbero fare più in 23, ma in 8 step. Si è raddoppiata la caparra e sono state concesse altre garanzie fiderissorie. Dalla sua il gruppo De Sarlo ha chiesto trasparenza sui bilanci e divisionare la perizia di parte, richiesta non accordata, almeno per il momento. Entro mercoledì dovrebbe esserci infatti un nuovo summit per provare a sciogliere gli ultimi nodi. CT Petroli che produce gasolio, la Rotrans che lo trasporta, la Full Petroli che lo commercializza al dettaglio e poi la D Logistica. E' questa la De Sarlo SRL che coordina perfino i trasporti marittimi ed aerei. L'ultimo bilancio depositato da AD Logistica SRL che possiamo descrivere come la società madre, nel registro delle imprese corrisponde all'anno 2018 e riporta un range di fatturato tra 6 milioni e 30 milioni di euro. Fatturato aumentato del 34,79% rispetto al 2016. Il capitale sociale della stessa azienda durante il 2018 è aumentato del 1.900% rispetto al 2016. Alla finestra rimane anche la famiglia Silvestrini. I due fratelli romani, Vincenzo e Pierangelo, ex proprietari e soci del Perugia fino al 2008, vogliono riprovare ad entrare nel mondo del pallone. I due fratelli sono titolari della Infotecna, gruppo da 100 milioni di euro a giudicatario di appalti di pulizie in strutture pubbliche e private. Nel portafoglio, clienti come Autogrill, Copra Piacenza, Magneti Marelli e Fiat. Ad Arezzo i Silvestrini si sono interessati alla realizzazione di un centro di ortopedia. E guarda caso hanno puntato parallelamente all'Avellino anche alla squadra toscana. Nel 2010 furono accusate di frode fiscale e riciclaggio. Ne uscirono puliti con la soluzione e la totale stranità ai fatti. I due avrebbero presentato una manifestazione di interesse. Non smette di cullare il sogno nemmeno Angelo Antonio D'Agostino, l'imprenditore irpino, leader nel suo settore, avrebbe già chiesto l'Umi in tribunale. E i beni informati rivelano che la proposta d'acquisto sarebbe già nero su bianco. Pare però che non sia stata ancora formalizzata. Qualcosa si muove dunque, ma i tempi stringono. A scandirli c'è la necessità, ma anche la tuonante sfida di Mario Dell'Anno.